Deceduta per Covid, un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale Fiorentino di Careggi. La donna, 51 anni, si trovava a casa malata ed era seguita a distanza dai medici. Le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente, portandola alla morte, che si è verificata il 30 novembre. Cordoglio per l'accaduto è stato espresso dalla direzione dell'ospedale. Il 4 dicembre, i colleghi di reparto della donna che lavorava alla traumatologia del CTO ed era molto apprezzata per la sua professionalità, osserveranno un minuto di silenzio in suo ricordo. A partire dal 5 ottobre scorso fino al 27 novembre, sono 260 i dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi risultati positivi al coronavirus, tra cui anche 68 medici, 96 infermieri e 50 operatori socio-sanitari. 54 dei dipendenti positivi al coronavirus era in servizio in area Covid, 191 in area no Covid e 15 al pronto soccorso. Tra i reparti più colpiti, quello dell'adegenza traumatologica, dove si sono registrati 18 casi, seguono il pronto soccorso, 15 casi, e la chirurgia d'urgenza cardiovascolare tra pianti, 11 casi.